Con un buco nel cuore è l'ultimo libro di Sascha Perugini, scrittrice a retina che ora vive a Firenze ma ha lasciato ad Arezzo il cuore e tanti amici, parenti e quindi ogni tanto torna. Allora, la vita. Sascha, perché questo titolo? Il libro racconta di un'operazione al cuore, un titolo che può trarre in inganno perché appunto vorrebbe pensare a una storia d'amore. In realtà è un'operazione al cuore e affronta tutte le difficoltà, le paure e i dilemmi di un percorso di questo tipo. Uno dei motivi per cui ho voluto scrivere questo libro è anche parlare dei tabù, perché così ho voluto parlare dei tabù, delle grandi operazioni, quelle operazioni che vengono affrontate quotidianamente da tantissime persone, non necessariamente grandi, anche a volte bambini. Però ci sono tantissime paure di cui non si ha il coraggio di parlare perché c'è questo senso che essendo delle grandi operazioni o grandi malattie, la sopravvivenza è un po' un miracolo e quindi dobbiamo un po' stare zetti. Quindi ho voluto un po' mettere il dito nella piaga e affrontare anche attraverso questo percorso il discorso dell'identità e di come l'identità viene costruita nell'arco di una vita di una persona, perché poi la malattia mette in discussione l'identità di una persona. Questo era l'intento, fra l'altro questo libro sarà presentato proprio ad Arezzo? Sì, il 30 di marzo alla Libreria Universitaria in Viale Cittadini, quella proprio vicino alla Facoltà di Lettere di Arezzo, il 30 di marzo alle 18 presenterà Laura Occhini che è una professoressa di Psicologia della Facoltà.